Il sindaco di Teramo, Gianguido D'Alberto, e il dirigente del servizio gestione rifiuti della regione Abruzzo, Franco Gerardini, hanno sottoscritto la convenzione per la nomina del sindaco a commissario ad acta per la discarica alla torre, dopo il finanziamento di 2,6 milioni di euro per gli interventi da effettuare sul sito. L'incarico è finalizzato all'attuazione delle misure di messa in sicurezza propedeutica alla chiusura definitiva della discarica alla torre di Teramo. La discarica alla torre è costituito sempre un problema di criticità ambientale, da una parte anche finanziaria per il comune di Teramo. In questo momento, grazie a fondi Masterplan stanziati dalla regione, sono 2,6 milioni, il comune potrà mettere in sicurezza permanente la discarica e ripristinare ambientalmente il sito. Adesso, finalmente, dopo gli annunci, le promesse degli anni precedenti sulla quota di finanziamento da destinare alla chiusura definitiva, siamo riusciti ad ottenere questo obiettivo. In realtà, già con il recupero del finanziamento inserito nel Masterplan, l'anno scorso, subito dopo il nostro inserimento, ci siamo attivati con la regione Abruzzo per far inserire le risorse della chiusura definitiva della discarica alla torre all'interno del finanziamento Masterplan, come priorità 2, e ci siamo riusciti. E oggi si arriva alla sottoscrizione della Convenzione. È chiaro che quando parliamo di costo della discarica, noi dobbiamo fare riferimento anche al peso enorme economico della gestione dello smaltimento del percolato in questi anni, che in alcuni esercizi finanziari ha toccato il picco anche di 700 mila euro. Qui, non solo per il problema tecnico della discarica di carattere ambientale, ma anche e soprattutto per una gestione politica assolutamente inefficiente, se consideriamo che per tanti anni non è stata fatta la gara per l'affidamento del servizio, così come noi chiedevamo. Nel momento in cui è stata fatta la gara abbiamo avuto un risparmio del 35%, tutto a carico del cittadino di Terramani, perché vorrei ricordarlo, per legge, la quota relativa alla gestione e allo smaltimento del percolato viene inserita all'interno del piano economico-finanziero della Tari.